La nostra storia inizia a Ravenna nel 1901, una storia fatta di tenacia e competenza, che ha fatto di CMC una delle prime imprese di costruzioni in Italia e nel mondo. Costruiamo grandi opere che aiutano comunità e persone a crescere e vivere meglio. Con la nostra esperienza creiamo nuove opportunità nei luoghi in cui operiamo. Siamo la prima cooperativa di costruzioni in Europa. Con oltre un miliardo di euro di fatturato, siamo presenti in quattro continenti e in 39 stati. Nei nostri uffici e nei nostri cantieri si incontrano ogni giorno persone di oltre 40 paesi. Il nostro gruppo, che oggi dà lavoro a quasi 8.000 persone, crea da sempre benessere e sviluppo. Crediamo nell'importanza della formazione continua, nella trasmissione di competenze know-how. Nella valorizzazione di esperienze e professionalità. La qualità, la sicurezza e la salute dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, sono al centro della nostra attività. Grazie all'impegno quotidiano di donne e uomini di ogni età, etnia e cultura, CMC è sinonimo di fiducia in ogni parte del mondo. Fin dal 1901, la responsabilità sociale, l'innovazione, la crescita professionale e umana guidano il nostro agire. Ogni giorno CMC è al lavoro per le generazioni di domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.